Per avere la mentalità vincente bisogna vincere, la prima vittoria è contro alcuni dei nostri difetti, alcuni dei nostri limiti e già ci sentiamo che stiamo vincendo. Voi dovete pensare immediatamente, ok difficoltà nel mio lavoro, adesso che difficoltà ho? Sempre scrivere, elenco di difficoltà. Quell'elenco di difficoltà mettetele in ordine di importanza. Come squadra, come gruppo, io dico qual è il problema maggiore? Questo bene, questo ci occuperemo tutti. Questa difficoltà che è la principale, mettiamo tutti i canoni lì. Perché se metto i canoni dappertutto, ognuno spara una volta. Se io metto tutti i canoni su una cosa, le spariamo dieci volte e le risolviamo più velocemente.